Un assalto in piena regola nella notte nel distributore di carburanti sodifa dell'imprenditore aquilano di Fabio Appianola. I malviventi con un escavatore rubato in una ditta e dide delle vicinanze hanno divelto le colonnine che contenevano l'incasso del self-service ma poi, alla vista delle pattuglie dei carabinieri, sono fuggiti per le campagne circostanti. Avevano anche messo un grosso camion Iveco, anch'esso rubato, sulla carreggiata per ostacolare la circolazione e che poi avrebbero utilizzato per portare via il provento del furto. Dal lato opposto avevano invece posizionato due carrelli in disuso per il trasporto della legna. Le ricerche dei malviventi sono scattate immediatamente grazie all'ausilio di altre pattuglie, tutte coordinate dal capitano Francesco Nacca comandante della Compagna dei Carabinieri dell'Aquila che ora, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, sta tentando di identificare i responsabili. Il piazzale, come si vede dalle immagini, è stato messo a ferro e fuoco dai malviventi due pompe di benzina completamente abbattute, così come le due colonnine con il denaro una ancora sull'escavatore che le ha divelte e una a terra. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'intera area. Danni ingenti al distributore, si parla di oltre 50.000 euro. Importantissimo in questo caso l'intervento tempestivo dei Carabinieri dell'Aquila che scoperto il furto dell'escavatore hanno presidiato la zona circostante impedendo che i danni fossero ancora maggiori. Dai fotogrammi dell'impianto si vedono due malviventi ma sicuramente ad agire saranno stati più di due.